L'Azzaro era il fratello di Maria, la donna che poi unse il Signore con olio profumato e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Essi abitavano a Betania insieme a Marta, loro sorella. L'Azzaro si ammalò e le sorelle fecero avvisare Gesù. Signore, il tuo amico è ammalato. Quando Gesù ebbe questa notizia, disse «Questa malattia non porterà alla morte, ma servirà a manifestare la gloriosa potenza di Dio e quella di suo figlio». Gesù voleva molto bene a Marta, a sua sorella Maria e a L'Azzaro. Quando sentì che L'Azzaro era ammalato, aspettò ancora due giorni. Poi disse ai discepoli «Torniamo in Giudea». I discepoli replicarono «Maestro, poco fa in Giudea cercavano di ucciderti e tu ci vuoi tornare?» Gesù rispose «Non ci sono forse dodici ore nel giorno. Se uno cammina di giorno, non inciampa perché vede la luce». «Se uno invece cammina di notte, inciampa perché non ha la luce». Poi disse ancora «Il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma io vado a risvegliarlo». I discepoli gli dissero «Signore, se si è addormentato, guarirà». Ma Gesù parlava della morte di Lazzaro. Essi invece pensavano che parlasse del sonno. Allora Gesù disse chiaramente «Lazzaro è morto. Sono contento per voi che non eravamo là. Così crederete. Andiamo da lui». Tommaso, soprannominato gemello, disse agli altri discepoli «Andiamo anche noi a morire con Lui». Betania era un villaggio distante circa tre chilometri da Gerusalemme. Quando vi giunse Gesù, Lazzaro era nella tomba da quattro giorni. Molta gente era andata a trovare Maria e Marta per confortarle dopo la morte del fratello. Quando Marta sentì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece rimase in casa. Marta disse a Gesù «Signore, se tu eri qui, mio fratello non moriva. E anche ora so che Dio ascolterà tutto quello che tu gli domandi». Gesù le disse «Tuo fratello risorgerà». Marta rispose «Sì, lo so. Nell'ultimo giorno risorgerà anche lui». Gesù le disse «Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Anzi, chi vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo». Marta gli disse «Signore, sì, io credo che tu sei il Messia, il figlio di Dio che deve venire nel mondo». Detto questo, Marta andò a chiamare di nascosto Maria, sua sorella. «Il Maestro è qui e ti chiama». Appena Maria lo seppe, si alzò e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. La gente che era in casa a confortare Maria la vide uscire. Pensarono che andava a piangere sulla tomba di Lazzaro e la seguirono. Maria giunse dove era Gesù e lo vide. Allora si inginocchiò ai suoi piedi e disse «Signore, se tu eri qui, mio fratello non moriva». Quando Gesù vide Maria che piangeva e vide piangere anche quelli che erano venuti con lei, fu scosso dalla tristezza e dall'emozione. Gesù domandò «Dove l'avete sepolto?» Risposero «Signore, vieni a vedere». Gesù si mise a piangere. Allora la gente disse «Guarda come gli voleva bene!» Ma alcuni di loro dissero «Lui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva fare in modo che Lazzaro non morisse?» Allora Gesù, soffrendo di nuovo per la commozione, giunse alla tomba. Era scavata nella roccia e chiusa con una pietra. Gesù disse «Togliete la pietra!» Marta, sorella del morto, osservò «Signore, da quattro giorni è lì dentro, ormai puzza!» Gesù replicò «Non ti ho detto che se credi vedrai la gloriosa potenza di Dio?» Allora spostarono la pietra. Gesù alzò lo sguardo al cielo e disse «Padre, ti ringrazio perché mi hai ascoltato. Lo sapevo che mi ascolti sempre, ma ho parlato così per la gente che sta qui attorno perché credano che tu mi hai mandato. Subito dopo gridò con voce forte «Lazzaro, vieni fuori!» Il morto uscì con i piedi e le mani avvolti nelle bende e con il viso coperto da un lenzuolo. Gesù disse «Liberatelo e lasciatelo andare!» La gente che era venuta a trovare Maria vide quello che Gesù aveva fatto. Molti di loro perciò credettero in Lui. Alcuni invece andarono dai farisei e raccontarono quello che Gesù aveva fatto. Allora i capi dei sacerdoti e i farisei riunirono il loro tribunale e dissero «Che cosa faremo ora? Quest'uomo opera molti miracoli. Se lo lasciamo fare tutti crederanno in Lui. Allora verranno i Romani e distruggeranno il Tempio e la nostra nazione». Uno di loro era Caifa sommo sacerdote in quell'anno e gli disse «Voi non capite non vi rendete conto che è meglio per voi la morte di un solo uomo piuttosto che la rovina di tutta la nazione». Caifa non parlò così di sua iniziativa ma perché era sommo sacerdote in quell'anno. Come sommo sacerdote egli fece una profezia. Disse che Gesù sarebbe morto per la nazione e non soltanto per la nazione ma anche per unire i figli di Dio dispersi. Da quel giorno dunque decisero di far morire Gesù. Per questo egli evitava di andare e venire pubblicamente per la Giudea ma si ritirò nella regione vicina al deserto nella città chiamata Efraim e rimase lì con i suoi discepoli. Quando si avvicinò la Pasqua ebraica molti dalle campagne salirono a Gerusalemme per purificarsi prima della festa. Là cercavano Gesù e stando nel tempio dicevano fra loro che ne pensate verrà o non verrà alla festa? Intanto i capi dei sacerdoti e i farisei avevano ordinato chiunque conosce dove si trova Gesù lo faccia sapere. Fecero questo perché volevano arrestarlo.